Alla fine è successo. Abbiamo per le mani un iPhone 15 Pro e quindi oggi sono in grado di mostrarvi le fotografie che escono da queste fotocamere e possiamo andare a commentarle e a cercare di capire se sono meglio di prima, peggio di prima, completamente uguali a prima. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e quindi ero abbastanza ansioso di mettere le mani su uno di questi dispositivi. Questo è il famigerato iPhone 15 Pro, famigerato perché si surriscalda, famigerato perché a quanto pare ci sono dei cellulari che fanno delle fotografie migliori ma Apple ha una risonanza maggiore quindi questo venderà un sacco di copie mentre tantissimi competitor che hanno delle fotocamere migliori venderanno di meno. La prova è qui nelle mie mani, questo ha venduto di più, i suoi competitor hanno venduto di meno. Quindi oggi guardiamo questo e non i suoi competitor. Se vi interessa una comparazione fra questo e altri smartphone in circolazione io vi invito a iscrivervi al canale e a mettere like a questo video. Quando raggiungo mille like a questo video facciamo una bella comparazione tra questo e un altro smartphone top di gamma. Cominciamo subito col dire una cosa. Io ho fatto dei test con le impostazioni standard, quindi ho smanopolato un po', mi sono messo la griglia, ho toccacciato due cose, però facendo due prove le foto che vengono fuori da questo telefono misurano tutte 4000x3000 pixel. Quindi stiamo parlando di 12 megapixel, da questo punto di vista non cambia praticamente niente con modelli precedenti. Io mi ricordo che già c'erano 12 megapixel sull'11 Pro, quindi sul mio vecchio telefono, quindi da quel punto di vista nessuna rivoluzione, ma va benissimo così, perché io quando sento parlare di 100 megapixel mi allarmo sempre, io non le voglio foto così grandi perché pesano troppo. Queste secondo me tutto sommato pesano giusto. Come probabilmente saprete questo telefono si contraddistingue per la presenza di più camere, quindi possiamo andare a scegliere quale camera utilizzare e questa è la feature più interessante dell'intero telefono. Qui le hanno chiamate 1x che è la camera principale, dopodiché abbiamo 0,5 che è il grand'angolo, abbiamo 2x e 3x. È una gamma interessante perché ci consente di fare praticamente tutto. Abbiamo l'equivalente di un 13 mm sul grand'angolo, dopodiché abbiamo un 28, un 40, praticamente un 50 e poi abbiamo qualcosa che si avvicina a un 100, non mi ricordo più cosa avevano dichiarato 120, una roba del genere. Quindi abbiamo una bella gamma, praticamente abbiamo 13 120, praticamente copriamo tutta la gamma di quello che potremmo fare con 3 o 4 lenti professionali, il che sicuramente è molto interessante. Andiamo a vedere un pochino come performa questo telefono, andiamo a vedere come si comporta in una dimensione di comfort, quindi con una luce che abbiamo gestito e poi andremo a togliergliela questa luce per vedere come performa in assenza di luce. Partiamo da questa immagine, come potete vedere questa è un'immagine scattata con il grand'angolo e infatti c'è tutta la deformazione del caso. Devo dire che secondo me ha un'ottima definizione, un'ottima nitidezza anche su tutto il fotogramma, soprattutto per essere un grand'angolo molto molto spinto. Quindi deforma certo, ma ci piace perché è un grand'angolo e deve deformare, deve comportarsi proprio così. La resa dei colori non è eccezionale, perché non lo è, stiamo comunque parlando di uno smartphone, non è eccezionale rispetto a quello che vedevo io con i miei occhi e rispetto a quello che vedrebbe una fotocamera vera, però pur non essendo eccezionale è comunque notevole. Procediamo e passiamo alla seconda camera, quindi questo è l'1x, il 28 mm. Qui come potete vedere i colori sono rimasti gli stessi, la gamma è rimasta la stessa, quindi da questo punto di vista devo dire tutto molto bene, abbiamo ovviamente meno distorsione, il che probabilmente ci piace anche su un'immagine del genere. Passiamo al 2x, come potete vedere passando al 2x, la cosa non cambia, nel senso che abbiamo esattamente la stessa gamma di prima, abbiamo esattamente gli stessi colori di prima, abbiamo ancora meno distorsione, il che ovviamente ci può piacere, però quello che ci interessa qui è proprio la qualità. Devo dire che rispetto alla prima io forse ravviso un pochino di nitidezza in meno in certi punti di queste immagini, è un po' variabile la nitidezza su tutto il fotogramma, non è uguale tra una lente e l'altra, il che è anche normale, bisogna fare degli esperimenti per capire come performa. Ora, c'è tanto stata magnificata la modalità macro di queste lenti, ovvero noi possiamo avvicinarci al soggetto nel momento in cui siamo molto vicini, il telefono rileva dalla distanza che siamo molto vicini e si passa in modalità macro. Adesso andiamo a vedere come performa questo telefono in modalità macro, tenetevi forte. Ripartiamo con il nostro grandangolo da 0.5. Vedete, io mi sono avvicinato troppo al mio soggetto, ovviamente distorce in una maniera devastante, però può essere un effetto voluto, può essere quello che vogliamo. Come potete vedere qui cominciamo ad avere dello sfocato non intenzionale, nel senso che alcune parti sono fuori fuoco per via della distanza, man mano che ci avviciniamo la profondità di campo diminuisce, quindi è difficile mantenere tutto quanto a fuoco. Devo dire, secondo me questo grandangolo se la cava molto bene perché il fuoco è decente, non è eccelso, rendeva meglio da più lontano, però comunque per essere un telefono cellulare e comunque un grandangolo di solito lo usi da lontano, devo dire se l'hai cavata abbastanza bene, come potete vedere il copriobiettivo è perfettamente a fuoco, certo la ghiera principale quella in alto a sinistra è tutta bella sfocata, però globalmente non è una cattiva immagine. Passiamo al 28 mm e qui come potete vedere abbiamo un pochino di aberrazioni cromatiche che a questo livello di vicinanza si vedono molto di più, però riuscire a mettere a fuoco così vicino con un 28 è una cosa sicuramente molto interessante. Passiamo al 2x e vedete che la solfa non cambia ma anzi forse migliora anche un pochino, nel senso che con questa camera riusciamo ad avere un dettaglio molto bello, diciamo che per ottenere la stessa cosa a questo punto dovremo avere un obiettivo macro dedicato sulla nostra fotocamera professionale e non è così facile portarsi a casa uno scatto come questo anche con un obiettivo macro, ci vuole molta perizia, questo invece riesce a usarlo chiunque semplicemente premendo il bottone perché comunque la stabilizzazione, le prestazioni dell'iPhone mi hanno consentito di fare queste foto a mano libera disinteressandomene completamente, non ero preoccupato che venissero bene o male, ho semplicemente scattato così alla leggera e devo dire il risultato è sorprendente perché avrebbe questo risultato anche un amatore, anche chi non avesse la perizia di aver tenuto in mano macchine fotografiche per tanti anni, quindi questo è il risultato che potrebbe ottenere chiunque con in mano un iPhone 15 Pro. Proviamo ad avvicinarci ulteriormente, vedete che abbiamo un dettaglio secondo me notevole, nel senso che qui riusciamo veramente a contare i chicchi di polvere sopra la ghiera, è un risultato che io mi aspetterei con un obiettivo macro anche di un certo livello a questo punto, di certo non con un entry level. Passiamo al 3x e vedete che qui entriamo veramente nel microcosmo, cioè qui siamo in grado di fotografare cose piccole come insetti o microchip o cose comunque direi praticamente invisibili a occhio nudo, con una definizione che non è fantastica, non è quanto di più strabiliante io abbia mai visto, ma per essere scattata con un telefono posso dire è notevole. Tutta questa tecnologia è stata, non ho ancora capito bene come, incapsulata in queste tre lenti, quindi queste tre lenti ci restituiscono tutti questi risultati possibili. Ovviamente ci saranno delle interpolazioni, ci sarà di mezzo dell'intelligenza artificiale, della computazione, ci sarà qualcosa di ricostruito tra uno zoom e l'altro, certamente sì, però noi qui oggi guardiamo solamente i risultati. A me non interessa tanto se un'immagine è stata scattata così come era, oppure se è artefatta, se sono state corrette delle parti in questa fase, perché comunque è un telefono, io me lo aspetto che ci sia una parte di correzione digitale, perché questo non è uno strumento per professionisti, è uno strumento per chiunque, magari con un occhio di riguardo al social media manager o ancora più all'influencer e quindi vogliamo delle immagini sempre perfette e io che faccio questo di lavoro lo so benissimo che le immagini raramente sono perfette così come sono, a meno che non ci sia stata tantissima cura nell'allestire una scena, in mancanza di questa cura che normalmente la persona normale non ha nemmeno ben presente cosa comporti, un influencer neanche, perché l'influencer comunque non è un fotografo, non è un professionista del settore, è qualcuno che ha un pubblico in virtù dei contenuti che butta fuori, questo non significa necessariamente che abbia delle competenze. Io non credo che Chiara Ferragni sappia allestire un set, non le interessa, lei si fa trovare dei set già pronti e comunque lei vive dei contenuti che fa che non sono necessariamente pensati per essere inquadrati in un set, però ha bisogno di un dispositivo che le faccia le foto belle da solo, sempre, quindi è normale che ci sia della computazione dentro nelle fotografie che noi vediamo fatte con un telefono, quindi non mi scandalizzo se ce n'è. A me qui interessa solamente il risultato. Adesso passiamo al lato video, perché anche qui ci sono delle cose interessanti. Rimaniamo sempre sul medesimo soggetto, quindi io spero di non annoiarvi, anzi ho scelto un soggetto vintage per fare da controaltare e qui vedete che la qualità è pressoché la stessa che stavamo vedendo in fotografia, quindi noi ora possiamo andare a vedere tutte le sue fotocamere, questo è il grandangolo zenitale e questa qui è la funzione macro, come potete vedere la funzione macro sul video è piuttosto bruttina, questa è una cosa che mi ha lasciato un po' così e questo che cosa ci dice? Nel momento in cui facciamo una ripresa ravvicinata ci conviene passare alla camera successiva, andare a zoomare piuttosto che utilizzare una camera intermedia e avvicinarci, ci conviene zoomare perché se passiamo in modalità macro sul video abbiamo una perdita di qualità. Questo non so se sto sbagliando qualcosa io ma ho proprio ravvisato questa cosa, nel momento in cui si passa in modalità macro sul video abbiamo una caduta qualitativa, quindi sconsiglio di usare questa modalità, piuttosto utilizziamo una camera con uno zoom maggiore stando più indietro perché il risultato sarà migliore. Vedete qui siamo sempre in modalità macro, vedete che non è bello, ecco avete visto, avete visto quello scatto? Quello scatto è perché sono uscito dalla modalità macro e sono passato alla modalità normale, questa è la modalità normale, vedete che non c'è paragone, è molto meglio rispetto a prima, è proprio meglio zoomare avanti, io qui ho zoomato avanti e vedete che qui si vede molto bene, niente a che fare rispetto alla visione di prima, la modalità macro sul video non so per quale motivo non funziona per niente bene, ma io lo so che cosa state aspettando, questo cellulare ha anche una modalità video che si chiama cinema, adesso andiamo a guardare questa modalità e cerchiamo di capire come funziona e andiamo a vedere che cosa ne penso io personalmente. Modalità cinema, come potete vedere abbiamo lo sfondo molto più sfocato con un effetto che, allora vedete che sfarfalla un pochino in certi punti, non è ottico, non è bello come quello di una lente, ovviamente, quindi non ci illudiamo di poter comprare un telefono come questo e avere esattamente la stessa qualità che avremmo se avessimo acquistato una lente cinema strabella con una macchina da presa vera, questo è un dispositivo che mima, non ti dà la stessa cosa, sta mimando quella roba lì, però la sta mimando abbastanza bene, nonostante ci siano dei difetti, sfarfallì sui contorni, delle parti che non si capisce bene se sono a fuoco o fuori fuoco perché è digitale, però lo sta facendo, devo dire, molto bene, quindi un occhio inesperto non la vede quella cosa lì, ma anche un occhio esperto, se mi state facendo vedere un video, un film fatto con un dispositivo come questo, io mi guardo il contenuto, non è che posso stare tutto il tempo a dire sì ecco lì sfarfalla, lì non sfarfalla, cioè sarei un psicopatico se mi guardassi un contenuto così, quindi secondo me fai un contenuto con questo dispositivo viene comunque bene e può essere fruito, il problema poi semmai sono i contenuti. Sempre modalità cinema, in questo caso stiamo usando credo l'1x invece del 2x, quindi ha due camere, la modalità cinema è solo due, come potete vedere va fuori fuoco, la modalità cinema fa più fatica a tenere il fuoco loccato, devo dire che, ecco qui è tornato a fuoco, devo dire che nel momento in cui muoviamo la camera e basta, va fuori fuoco, la modalità cinema non tiene bene il fuoco, però nel momento in cui gli ho dato un tap e gli ho detto mettimi a fuoco qui, allora me l'ha tenuto, anche se mi stavo muovendo dopo che gli ho dato il tap e gli ho detto esplicitamente che cosa doveva tenere a fuoco, dopo me l'ha tenuto un po' meglio, quindi anche qui trucchetto, se state facendo una ripresa cinema ditegli che cosa deve essere a fuoco, a che cosa deve essere data prevalenza così se la caverà un po' meglio. Ma è il momento di fare il test di luminosità, ovvero abbiamo illuminato una scena, l'ho illuminata bene in maniera tale da farvi vedere come rende il telefono con una gamma buona, quindi abbiamo visto la sua qualità effettiva, non massacrata dalla mancanza di luce, adesso andiamo progressivamente a togliere luce alla scena e vediamo come si comporta il telefono. Questa prima immagine che già vedete è un po' meno nitida perché sicuramente saranno saliti valoriso perché ho allontanato di parecchio le luci che sto utilizzando. L'immagine è ancora buona, si presenta ancora bene, però meno dettagliata di prima e non è ancora entrata in modalità notturna, quindi non sta ancora facendo lo scatto con l'esposizione prolungata, è ancora uno scatto normale. Passiamo a una seconda immagine, qui ho allontanato ancora di più le luci e vedete che performa ancora maledettamente bene, io avevo allontanato le luci e in qualche maniera speravo di allontanare le luci e che mi andasse in modalità scatto notturno, invece non ci andava, non ci andava perché per lui la luce era sufficiente, quindi riusciva ancora a farmela, qui la luce era veramente poca, è riuscito lo stesso a catturarmi questa immagine e qui stiamo lavorando con il 3x, quindi con il teleobiettivo più lungo che avevamo, quindi non era un contesto facile. Sapete che quando c'è poca luce è più facile scattare col grand'angolo perché si stabilizza in automatico da solo, mentre più è lunga la lente più c'è tremoli io più facciamo fatica. Mi sono voluto mettere in difficoltà di proposito. Questo in qualche misura non è bastato perché il telefono non andava in modalità lunga esposizione automaticamente, quindi ho proprio dovuto spegnere le mie luci e lasciare lo studio era oscurato, quindi ho proprio dovuto oscurare tutto e a questo punto il telefono ha catturato questa foto. Ora questa foto che vedete è brutta, è un po' sfocatina, è piena di artefatti, non è una bella immagine, è assolutamente brutta, però io vi assicuro che questa immagine è stata scattata in uno studio quasi completamente oscurato, cioè la scena era buia. Io stesso con i miei occhi non vedevo quello che si vede in questa foto, era molto più buia di così. Il telefono ha fatto automaticamente una posa di 3 secondi, sapete che quando si fa la posa di 3 secondi il telefono stabilizza il movimento della nostra mano e cerca di prendere più informazioni possibile e poi compone l'immagine che ha catturato in diversi step. Quindi dobbiamo stare più fermi possibile, però ci restituisce un risultato che sarebbe stato difficile ottenere altrimenti. Con una modalità del genere riusciamo a fare delle foto non belle, però anche di notte, se siamo in una piazzetta, in un bel borgo, vogliamo fare una foto, riusciamo a portarci a casa un'idea di quello che avevamo davanti, non sarà definita, non sarà precisa, non sarà netta. Ma poi, se la guardiamo piccola così su Instagram, si vede questa differenza? Secondo me no, non si vede più. Esiste fior fior di influencer che sicuramente scatta delle foto che, viste a schermo su un computer, farebbero schifo, ma viste piccole così, vanno bene. E questo è un device eccezionale in questo senso, perché ti permette di catturare la foto, ti permette di avere una lunghezza focale variabile molto vasta con cui fai tutto, perché con questa lunghezza focale fai qualsiasi cosa. L'unica cosa che non riesci a fare è fotografare le galassie e fotografare i batteri, ma tutto quello che c'è di mezzo più o meno riesci a cavartela. Certo, con delle eccezioni, magari una maratona notturna, sport notturno, non ce la fai, perché è impossibile con un telefono, quella roba lì è impossibile. Lì ci vuole una fotocamera e anche di fascia abbastanza alta. Però a parte quello, a parte casi particolari, uno dice no, voglio fotografare un colibri di notte che si nutre, cioè quelle sono le foto impossibili per cui ci vuole la strumentazione di Batman. Però a parte quelli che sono casi particolari, secondo me con un telefono così, un influencer, un creator fa tutto, fa veramente tutto. Lo fa meglio di altri competitor? Io questo non lo so, vi ricordo che se questo video raggiunge i mille like, faremo una comparazione tra questo e un altro telefono di fascia alta che decideremo al momento, mi baserò anche sui commenti, sulle richieste che mi fate. Vi ricordo a questo punto di iscrivervi al canale se non volete perdervi questo mirabolante contenuto che faremo appunto solamente nell'improbabile eventualità che questo video raggiunga i mille like. Vi aspetto come sempre nei commenti, siate clementi con me. Io qui ho cercato di fare solamente uno show and tell di quello che sono riuscito a vedere sul telefono, quindi se ne sapete più di me perché avete già approfondito, perché ce l'avete più tempo, non massacratemi ma anzi lasciatemi un commento per farmi sapere che cosa mi sono perso. Io vi ringrazio come sempre per aver passato un po' del vostro tempo con me e io e iPhone 15 Pro vi diamo appuntamento al prossimo video.